Apriremo subito il tavolo di lavoro per i dipendenti comunali. Con questo contratto verranno valorizzati talento e merito. I cittadini sono i nostri soci di maggioranza e a loro dobbiamo rispondere. Togliamo l'orologio a marcatempo, ci fidiamo delle persone, ripartiamo da quelli che ci vogliono dare una mano. Dirigenti e direttori si dovranno occupare di organizzare la macchina. Queste le parole pronunciate dal sindaco Luigi Brugnaro durante il primo consiglio comunale. Non esattamente entusiasti i sindacalisti del DICAP che fanno capire di ritenerla poco più di una butade. Pensiamo innanzitutto che sia un atto di strategia comunicativa visto che i problemi sono ben altri. Al di là della possibilità normativa che può anche esserci perché il testo unico sul pubblico impiego permetterebbe al dirigente un po' di attuare il controllo come gli aggrada. Però i problemi sono ben altri secondo noi. La fiducia, i dipendenti vorrebbero vederla manifestata in un'altra maniera. Vorremmo che il sindaco ci ascoltasse in voca Lombardo quando denunciamo come abbiamo fatto più volte le storture della macchina dirigenziale comunale. Nessuno dei dirigenti che occupano le cariche che sono state diciamo il centro della vita istituzionale quindi parliamo il bilancio, il personale, direzione generale ma anche fare i comandanti di vigili direi non sarebbe una buona idea per chi ha avuto un ruolo importante in questo disastro che ci vediamo davanti. La tensione tra i lavoratori è alta, confessa il sindacalista, perché da luglio ci troveremo con 200 euro in meno in busta paga. Alcuni stipendi andranno sotto i 1000 euro. Siamo pronti a dialogare ma non siamo ottimisti. Abbiamo zero risorse, non so il sindaco che passi voglia fare, noi auspichiamo faccia dei passi ma ad oggi non c'è una lira.